A distanza di appena due giorni dal vertice fra governo e gruppi della maggioranza sulle pensioni, oggi un altro impegnativo argomento è stato al centro di una riunione a Montecitorio fra i cinque partiti governativi, il Presidente Spadolini e alcuni ministri, la Casa. Sono stati definiti gli orientamenti in materia di proroga degli sfratti e sulle misure per favorire l'edilizia che saranno oggetto di un decreto che il Consiglio dei Ministri approverà venerdì. Il decreto sostituirà quello di due mesi fa, noto come decreto Nicolazzi, che ha avuto una vita difficile in Parlamento e che non può essere approvato dalle Camere prima della sua scadenza, cioè domenica. Il nuovo decreto contiene però delle novità ed è proprio intorno a queste novità che si sono confrontati oggi il governo e i partiti della maggioranza, trovando un accordo sul decreto che sarà tecnicamente perfezionato entro domani. Per ora non si sono avute conferme ufficiali alle indiscrezioni dei giorni scorsi, ma sembra certo che il rinvio nell'esecuzione degli sfratti che il decreto Nicolazzi prevedeva di sei mesi al massimo potrà essere prolungato a un anno. Certa appare anche l'introduzione nel nuovo decreto di misure fiscali che tendono a favorire la compravendita delle case e a favorire l'affitto delle abitazioni. In particolare verrebbero premiati i proprietari che affittano gli immobili per un certo numero di anni, mentre invece pagheranno più tasse quei proprietari che tengono le case sfitte. Nel vertice di oggi è stato anche preso l'impegno ad affrettare l'approvazione di una legge per il riscatto degli alloggi popolari. Sul problema della casa c'è stata oggi una presa di posizione del Partito Comunista che in una conferenza stampa ha duramente criticato il decreto Nicolazzi e ha accusato la maggioranza di preoccuparsi più di obiettivi elettoralistici che di prendere provvedimenti adeguati alla crisi della casa. Il PC ha manifestato la disponibilità a dare il suo contributo per la soluzione di questo problema. Non era soltanto Maurizio Folini il tramite tra Brigate Rosse e centri delle versione in Medio Oriente per la fornitura delle armi usate per molti atti terroristici nel nostro paese. Nuove indiscrezioni su un'inchiesta del giudice romano Imposimato portano alla ribalta ancora una volta il nome di Giovanni Senzani, il servizio di Enrico Messina. In questo covo di via della stazione di Tor Sapienza Giovanni Senzani teneva una contabilità precisa delle armi che riceveva dai suoi fornitori e che consegnava ai componenti le colonne terroristiche da lui controllate. Da un riscontro di questa tremenda contabilità è risultato che sono ancora in circolazione 17 fucili mitragliatori Kalashnikov di fabbricazione sovietica e 21 mitra sterling di quelli inglesi ceduti dapprima ai tunisini, poi catturati dai libici e quindi introdotti in Italia per essere consegnati ai terroristi delle Brigate Rosse e di prima linea soprattutto. Sono nelle mani di terroristi romani, napoletani e milanesi che si riconoscono nel fronte delle carceri, la cosiddetta ala movimentista delle BR di cui Giovanni Senzani era l'ideologo oltre che capo organizzativo. La polizia conosce i nomi di questi terroristi. Armi anche queste venute dai più disparati luoghi del Medio Oriente insieme ai bazooka, alle bombe a mano ananas e alle moltissime pistole delle marche più disparate. Nell'inchiesta del giudice Fernando Imposimato ci sono molti elementi che comprovano che in Italia i fucili automatici, le bombe, i revolver arrivavano per diversi canali. Non era soltanto Maurizio Follini che si era vantato di essere una spia del KGB e che godeva di grandi entrature presso centrali eversive del Medio Oriente a fornire di armi le varie sigle del terrore. C'erano altri ad esempio come Pier Giorgio Palmero e Maurizio Costa attualmente in carcere. Questi due nel luglio del 1979 riuscirono a portare a Milano una grossa partita di Kalashnikov e Dimitra Sterling. Li avevano ricevuti in una località libanese. Riuscirono a trasportarli via terra. Vale la pena di ricordare che molte di queste armi non arrivano soltanto ai terroristi italiani ma anche a quelli di altre nazionalità. La notizia è di oggi. In un covo dei terroristi baschi dell'ETA, dove era stato rinchiuso il padre di Julio Iglesias, c'erano moltissimi fucili mitragliatori Kalashnikov insieme a bazooka e a dinamite, tanto materiale da riempire due camion. La domanda è d'obbligo. Quali strade hanno percorso queste armi per arrivare fino in Spagna? Ma ritorniamo in Italia. L'aiuto dato dalle centrali medio orientali alle BR e a prima linea non si è limitato soltanto alle forniture di armi. C'è stato un costante contatto su come utilizzare al meglio le armi e le tecniche di guerriglia. Si sa che molti terroristi hanno avuto l'addestramento in campi di guerriglia in Libano. Una precisa indicazione proviene da una confessione di un pentito, Enrico Paghera, che ha ammesso che tramite l'intervento di un addetto all'ambasciata libica in Italia, era stato indirizzato ad un campo militare di addestramento a Taipei in Libano. Al campo ci sarebbe arrivato passando per Tripoli. Qui riceverà l'aiuto di una donna, Abulaila, e di un funzionario della banca delle comunicazioni di Tripoli, certo Saudi. Ma Paghera, alla vigilia della sua partenza, è arrestato. Comunque nell'inchiesta del giudice Ferdinando Imposimato, elementi di questo genere ce ne sono moltissimi e che comprovano che i rapporti fra i versioni italiana e centrali terroristiche del Medio Oriente sono stati e sono efficienti e costanti. Nel vertice odierno della maggioranza si è parlato anche del provvedimento a favore dei terroristi pentiti. I cinque partiti si sono impegnati a sostegno del progetto già approvato in Commissione e integrato dagli emendamenti governativi già concordati. Il provvedimento è all'esame dell'Assemblea di Palazzo Madama. La legge verrà votata con ogni probabilità domani per poi passare alla Camera. La Commissione parlamentare sulla P2 ha ascoltato oggi la deposizione di Angelo Rizzoli il quale ha confermato che dal 1976 in poi Gelli e Ortolani procurarono una serie di finanziamenti al gruppo editoriale ricevendo in cambio un compenso di circa 6-7 miliardi. Ciò conferma gli stretti rapporti tra la società editrice Rizzoli e la P2. A proposito delle quote di proprietà del gruppo Rizzoli ha precisato di non aver concesso lui il 10% di azioni attualmente controllate da Tassandin che svolge un ruolo determinante nella gestione della editrice. La Commissione ha poi ascoltato Calvi che ha affermato di avere svolto in tutta la vicenda esclusivamente un ruolo di banchiere. Calvi ha anche detto di non avere dato lui il 10% di azioni a Tassandin. Rimane quindi da capire qual è il ruolo che effettivamente Tassandin svolge nella proprietà del gruppo Rizzoli e come nasca la quota da lui controllata. Il ministro della difesa Lagorio ha smentito l'esistenza di qualsiasi rapporto di amicizia con il capo della loggia massonica P2 Licio Gelli confermando di non essere mai stato massone. Il ministro rispondeva in Commissione difesa della Camera alle interrogazioni sui rapporti di amicizia che gli avrebbe avuto con Gelli secondo quanto affermato dall'ex gran maestro della massoneria Lino Salvini nella sua deposizione davanti alla commissione di inchiesta per la P2. Lagorio ha ricordato di essersi incontrato con Salvini nel periodo in cui questi era attivamente impegnato nel PSI Fiorentino all'inizio degli anni 70 ma quanto a Gelli Lagorio ha dichiarato di non avere mai avuto alcuna relazione né di intimità né di amicizia né di consuetudine con il capo della P2. Ha dichiarato che Gelli gli fu presentato superficialmente all'inizio degli anni 70 durante un ricevimento che qualche tempo dopo chiese di essere ricevuto da lui per questioni del tutto insignificanti. Da allora Lagorio ha affermato di non avere mai visto né incontrato il capo della loggia massonica P2 né di essere stato mai da lui cercato o contattato direttamente o indirettamente. Seduta anche della commissione inquirente sulla questione delle tangenti per una presunta mediazione nel contratto di fornitura di petrolio dell'Arabia Saudita tra l'ENI e la società Petromin. Sono stati nuovamente ascoltati l'ex presidente dell'ENI Mazzanti e l'ex dirigente dell'ufficio per l'estero Carlo Sarchi. Mazzanti ha negato di avere mai pensato di utilizzare fondi neri per pagare la mediazione. Ha così respinto l'accusa in questo senso che gli aveva fatto ieri di donna attuale vice presidente dell'ENI. È quindi probabile nei prossimi giorni un confronto tra lo stesso Mazzanti e di donna. L'ex presidente dell'ENI ha anche ripetuto che la tangente era congrua e necessaria per la conclusione del contratto mentre Carlo Sarchi ha sostenuto che il presunto mediatore dell'affare Parviz Mina è persona di rilievo e conosciuta nel mondo petrolifero. Va ricordato che Parviz Mina nega di aver mai svolto opera di mediazione nel contratto tra l'ENI e la Petromin. Una cauta ma precisa risposta all'atteggiamento americano sui fatti polacchi e sulle sanzioni previste dal presidente Reagan è stata resa pubblica in serata dal Vaticano. La Santa Sede è precisa che la sua funzione non è di natura politica ed aggiunge il suo apprezzamento per tutti gli sforzi tendenti ad assicurare assistenza soprattutto sul piano alimentare e umanitario al popolo polacco. Si tratta, aggiunge il comunicato Vaticano, di atteggiamenti non diretti contro la vita e il progresso della Polonia ma che si propongono di sostenere l'aspirazione di quel popolo verso la libertà. La conferenza episcopale polacca dopo aver discusso ieri la grave situazione del paese ha deciso di inviare un messaggio al generale Jaruzelski e una lettera pastorale ai cattolici. Non si conosce ancora il contenuto dei due documenti. Un vescovo ha detto che ribadiranno la posizione della Chiesa sullo stato d'assedio e sul futuro dialogo con le forze sociali. Nei giorni scorsi la gerarchia ecclesiastica ha condannato la violazione dei diritti umani in Polonia e ha chiesto di nuovo il ritorno ad un processo di rinnovamento sociale. Si vanno intanto precisando le intenzioni del potere o almeno di una parte di esso sulla futura funzione del sindacato. Un articolo pubblicato dal giornale delle forze armate fa comprendere che saranno fortemente limitati i compiti del sindacato che dovrà interessarsi soprattutto delle condizioni di lavoro e dei salari nelle singole fabbriche. Altri quattro militanti di Solidarnosc sono stati intanto condannati a Biesco e Biala appena che vanno da due a tre anni di reclusione per aver violato la legge marziale. Un successo importante per molti aspetti clamoroso. Così il segretario del PSI Bettino Craxi ha commentato oggi a Strasburgo l'elezione del candidato socialista Piet Dankert alla presidenza del Parlamento europeo. L'elezione di Dankert ha detto Craxi è avvenuta grazie alla convergenza e all'unità nel voto di tutte le forze della sinistra e all'apporto decisivo dei voti liberali e conservatori. È un risultato, ha concluso Craxi, di rilievo politico che apre una dialettica diversa nel Parlamento europeo. Anche il segretario della DC, Flaminio Piccoli, ha giudicato l'elezione del candidato socialista come un fatto di grande rilevanza perché ha detto l'Europa ha certamente bisogno dei socialisti e dei democratici cristiani. Piccoli ha però criticato la condutta nel voto dei conservatori inglesi che, ha affermato il segretario democristiano, per motivi personali sono stati determinanti per disegnare Dankert alla presidenza dell'Europarlamento. È morto a 64 anni il numero 2 del KGB, il servizio segreto sovietico. Il generale Semyon Zvigun era stato nominato vicepresidente del KGB nel 1967 dopo avere diretto i servizi di sicurezza nelle repubbliche sovietiche della Moldavia e del Tajusistan. Stretto collaboratore del presidente Brieshnev era a lui legato anche da legami di parentela avendo sposato la cognata del capo del regime sovietico. Il segretario di stato americano Alexander Haig tornerà fra pochi giorni in Medio Oriente visitando Israele il 27 e 28 gennaio e quindi l'Egitto il 29 e 30. Haig era già stato al Cairo e a Tel Aviv la scorsa settimana. Al termine del suo viaggio aveva annunciato che sarebbe tornato nei due paesi con nuove proposte e suggerimenti per rilanciare il processo di pace. Uno sciopero totale ha paralizzato la rete ferroviaria britannica. La sospensione dal lavoro dei dipendenti delle ferrovie inglesi si ripeterà nella giornata di domani. La speranza di risolvere la disputa va sempre più allontanandosi. I colloqui odierni fra le parti si sono conclusi con un fallimento e i leaders sindacali hanno già preannunciato un altro sciopero per mercoledì e giovedì della settimana prossima. 12 morti, 300 feriti e 11.000 persone arrestate. Questo è il primo bilancio di 24 ore di sciopero generale proclamato in India dagli avversari del primo ministro indiano signora Gandhi. La stampa filogovernativa ha definito un fiasco lo sciopero. Poche ore prima dell'inizio della manifestazione con un'operazione di repressione su scala nazionale le autorità avevano fatto arrestare 6.000 persone tra organizzatori dello sciopero, sindacalisti e avversari politici e quelli che sono stati definiti elementi antisociali. Altre 11.000 persone erano state preventivamente rastrellate. Lo sciopero generale era stato indetto dalle otto federazioni sindacali nazionali affiliate ai partiti d'opposizione di sinistra e di destra per protestare contro la politica antioperaia del governo di Indira Gandhi. I sindacati chiedono sussidi di disoccupazione e l'annullamento di alcune leggi approvate di recente che vietano gli scioperi nei settori vitali e consentono la detenzione preventiva senza processo per 12 mesi. Il presidente del Consiglio Spadolini si è incontrato con il segretario del Partito Socialista Democratico Italiano Longo che gli ha riferito sui colloqui avuti in Romania con il presidente Ciausescu. Durante il colloquio lungo e cordiale è stato compiuto un ampio esame dei problemi di politica interna anche la luce delle intese nella maggioranza sui temi dell'edilizia e delle pensioni. Longo ha manifestato in proposito una viva soddisfazione. Nel colloquio è stata constatata una piena convergenza sugli addempimenti programmatici del governo al servizio degli obiettivi di risanamento che sono alla base dell'impegno dell'attuale coalizione. Intensa attività politica nella DC in vista del Consiglio Nazionale del Partito che si aprirà venerdì. Oggi si è riunita l'assemblea dei deputati democristiani che hanno ascoltato una relazione del capogruppo Gerardo Bianco. Questi i punti essenziali del discorso di Bianco. Il gruppo parlamentare della DC è contrario a uno scioglimento anticipato delle Camere, sostiene il governo a Spadolini e ritiene che l'attuale maggioranza, 5, non abbia alternative. La presidenza della Camera dei Deputati ha ricevuto un'istanza per sollecitare la riunione congiunta della Camera e del Senato per la decisione sul caso Andreotti, Rumor e Tanassi relativa al presunto reato di falsa testimonianza commesso durante l'istruttoria del processo di primo grado della strage di Piazza Fontana. L'istanza è stata presentata da una delle parti civili. I sommozzatori sono riusciti a recuperare dalle acque del Potomac la scatola nera dell'aereo precipitato a mercoledì scorso nel fiume dopo il fallito decollo dall'aeroporto di Washington. Le apparecchiature indispensabili per accertare le cause della sciagura sono state ritrovate sul fondo del fiume dove erano ricadute due giorni fa mentre veniva estratta la sezione di coda dell'aereo. La scatola nera è stata portata ai laboratori del Consiglio per la sicurezza dei trasporti per essere aperta e analizzata. La scatola nera contiene due apparecchiature, un registratore delle manovre e dei dati di volo, compresa la velocità dell'aereo, ed un secondo registratore fonico che tiene traccia dei rumori e delle conversazioni svoltesi nella cabina di pilotaggio. Ad Avezzano, dopo l'arresto dei due neonazisti tedeschi, proseguono le indagini per accertare eventuali collegamenti tra neofascisti italiani e gruppi terroristici di destra della Germania federale. Klaus Friedrich Hubel, sinistra nella foto, è stato espulso dall'Italia mentre Franz Bojarski è rinchiuso nel braccio di massima sicurezza del carcere San Domenico dell'Aquila. Il giudice istruttore dell'Aquila Ettore Bucciante comincerà nei prossimi giorni. Gli interrogatori dei dieci magistrati romani da lui incriminati per omissione e abuso di atti d'ufficio nell'ambito delle inchieste sulle presunte irregolarità avvenute in occasione dell'istruttoria sul fallimento dei fratelli Caltagirone. Secondo l'accusa, i magistrati avrebbero provocato lo slittamento dell'azione penale contro i fratelli Caltagirone rinviando la consegna degli atti alla Procura della Repubblica. I magistrati di quest'ultimo ufficio, a loro volta, sono accusati di aver omesso di procedere in tempo utile contro i costruttori. A Roma, a numero 2 di Via Crescenzio, dove al secondo piano assiede la Camera di Commercio Italo-USA e lo studio legale del professor Toscano, i gnoti hanno fatto esplodere un ordigno confezionato, a quanto si è potuto accertare finora, con non meno di 500 grammi di polvere d'ammina. La porta ad accesso ai locali è andata completamente distrutta. Danni hanno subito l'intero pianerottolo e anche l'ascensore. I vigili del fuoco hanno ispezionato lo stabile per accertare se non vi siano danni più gravi causati dall'esplosione. L'attentato non è stato rivendicato. La Fiat nel 1981 ha aumentato del 20% il suo fatturato, del 30% i suoi investimenti e diminuito di 27.000 posti lavoro il suo organico. Questi i dati principali di consultivo, emersi dalla riunione del Consiglio di Amministrazione del gruppo Fiat, riunitosi oggi a Torino sotto la presidenza di Giovanni Agnelli. 30.000 lavoratori hanno partecipato stamane a Milano a una marcia di lavoro durante lo sciopero generale di quattro ore proclamato da CGL CISL Will per la difesa dell'occupazione e il controllo dei processi di ristrutturazione delle aziende. Sono stati esclusi dallo sciopero gli addetti ai servizi essenziali, compresi i trasporti. L'Istituto Superiore di Sanità è al limite della sopravvivenza. Lo ha detto oggi in una conferenza stampa a Roma il direttore dell'Istituto, Professor Pocchiari. 200 ricercatori aspettano da tre anni di avere un contratto di lavoro. Se non sarà approvato a più presto il decreto che deve definire il loro stato e il loro trattamento, si prevede un esodo massiccio che priverebbe l'Istituto di personale di ricerca ad altissimo livello scientifico. Un gruppo di scienziati cinesi ha riprodotto sinteticamente la sostanza che è presente in tutti gli esseri viventi, l'acido ribonucleico, generalmente noto come RNA. La sostanza sarebbe identica nella sua struttura chimica a quella naturale ed è biologicamente attiva. La sintesi è stata realizzata il 20 novembre scorso per la prima volta, è stata ripetuta poi altre cinque volte e costituisce il risultato di 13 anni di ricerche condotte da oltre 200 scienziati. I segretari generali di 22 enti autonomi fioristici italiani si sono riuniti oggi a Roma per la prima volta. Il convegno nazionale che è stato aperto dal Ministro per il Turismo Signorello risponde infatti all'esigenza di confrontare e di approfondire le esperienze comuni maturate nella gestione degli enti fioristici e relative alla funzionalità e all'attività di questi organismi in campo nazionale e internazionale. Durante il dibattito verranno anche esaminati i metodi di intervento nei sistemi di conduzione, nella gestione del personale e in particolare nei rapporti con enti statali o regionali attraverso una idonea e regolamentata programmazione. Sempre nell'ambito del convegno che concluderà domani i suoi lavori verrà esaminata la possibilità di costituire una associazione che raggruppi tutti gli enti fioristici italiani al fine di instaurare in futuro un confronto periodico sulla intera problematica. Sono state giocate questa sera alcune partite delle Coppe Europee di palacanestro. In Coppa dei Campioni nel quarto turno di finale la Squib Cantu ha battuto in trasferta il Nashua Den Bosch per 89 a 78. In Coppa Corac il Latte Sole Bologna ha perduto a Tur per 91 a 93. A Venezia la Carrera ha battuto il cotonificio Badalona per 111 a 88. A Ortes in Francia la squadra locale ha battuto la Cagiva Varese per 102 a 77. Non ci è finora prevenuto il risultato dell'incontro Vadas-Acqua Fabia-Rieti. Per la terza volta nella sua carriera da stasera al San Ferdinando di Napoli Mario Scaccia vestirà i panni di Arnolfo il protagonista della scuola delle mogli di Moliere. In questa edizione regia di Marco Mattolini che con Franco Scaglia ha curato anche l'adattamento l'attore romano recita contornato da una giovane Elena Sofia Ricci, Alfredo Bianchini, Franco di Francesco Antonio, Donata Piacentini, musiche di Giovanna Marini, scene e costumi di Elena Ricci Poccetto. La scuola delle mogli fu un grande successo già dalla prima rappresentazione al Palais Royal di Parigi nel 1662 con lo stesso Moliere nelle vesti del protagonista. Al centro della commedia l'egocentrico Arnolfo, anziano gentiluomo convinto che la disgrazia maggiore che possa capitare ad un uomo sia quella di essere tradito dalla moglie. Ma alla fine lo sconfitto sarà proprio Arnolfo al quale un amico suggerisce che il modo migliore per evitare il tradimento della consorte è quello di non sposarsi affatto. La scuola delle mogli è una classica commedia di Moliere, un autore che se per riassumere le esperienze della commedia dell'arte italiana per fondare la moderna commedia di carattere e di costume. A Palazzo Chigi si tiene domani una riunione per esaminare i drammatici problemi posti dalla recrudescenza dei fenomeni mafiosi e camorristici. Il governo sta mettendo a punto interventi per combattere il fenomeno della criminalità organizzata. Alle 18 si riunisce la direzione della democrazia cristiana per affrontare i problemi legati all'attività dei gruppi terroristici. In mattinata il segretario Piccoli presiderà una riunione dei responsabili regionali e provinciali del partito. A Roma alle 9.30 corteo dei pescatori in occasione dello sciopero generale della categoria. Da piazza Indipendenza a piazza Santi Apostoli i pescatori distribuiranno pesce fresco ai passanti. A Roma al Teatro Olimpico l'Accademia Filarmonica propone uno spettacolo della compagnia di balletto statunitense di Louis Falco, primo ballerino Juan Antonio, repliche fino al 24 gennaio. A Napoli a Castella del Lovo si conclude il convegno dedicato alle enciclopedie e il sapere dell'uomo organizzato dal comune Partenopeo e dalla casa editrice Einaudi di Torino, tra i partecipanti Ruggero Romano, Vittorio Strada, Giulio Giorello. A Roma al Teatro Tenda la compagnia La Comune presenta clacson, trombette e pernacchie. Interpreti Franca Rame e Dario Fo che è anche regista dello spettacolo.